un anno dopo praticamente un anno dopo si possiamo dirlo sono ancora loro uno a uno fa scoppie ragazzi ma come cazzo si fa come cazzo si fa fa il vantaggio e non riesci a chiudere la partita perché non riesci a non riesci a chiudere ma non riesci ad avere occasioni per chiudere la partita dopo il gol immobile vai bardi che si sa ha delle capacità balistiche non indifferenti e niente uno a uno appunto che non serva un cazzo che non serva un cazzo l'Ucraina aveva pareggiato contro l'Inghilterra vada a sette noi andiamo a quattro bisogna vincere contro l'Ucraina e niente miglioramenti qualcosina la sovremazione del primo tempo ma tra le difficoltà del campo tra Dimitrieschi che l'ha neutralizzato e tra comunque Donnarumma Donnarumma non è stata guardata ha sventato un paio di di occasioni ripeto ripeto le reti avvengono nel secondo tempo guarda a porto un'estate immobile un gran gol di bardi su punizione e che cazzo non serva un cazzo non serva un cazzo detto questo buona notte a tutti lasciate un like commentate iscrivetevi al canale prodotto 2000 iscritti qui da Roma è tutto nonostante mi sia visto un film ero sintonizzato con i vari video e niente buonanotte guarda dove volevamo andare